Usura, droga, corruzione è un vero e proprio sodalizio criminale scoperto e stroncato a fuori grotta. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 11 persone gravemente indiziate a vario titolo di usura, detenzione spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo. E' stato così sgominato il sodalizio baratto volpe a fuori grotta che rientrava nella sfera di influenza della cosiddetta alleanza di Secondigliano. Tra gli indagati spicca un appartenente all'arma dei carabinieri indiziato di corruzione per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel corso delle indagini inoltre sono stati documentati ben nove casi di usura e danni di esercenti di attività imprenditoriali tra cui anche l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti a fronte dei quali gli indagati avrebbero applicato tassi di interesse variabili tra il 25 e il 40%. Grazie 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 Grazie